e voi sapete come viene la produzione della guinness ve la spiegherò non tutti forse lo sanno ma la storia della guinness parte proprio da 1755 ciao sono dr beska questo è il mio canale e su cui racconto curiosità anche sul cibo partiamo da oggi dalla guinness che è una birra stout la più famosa sicuramente per cremosità dolcezza e note tostate anche di cioccolato vi chiederete perché presenta queste note tostate anche di cioccolato come aroma ebbene perché oltre agli ingredienti classici in questa birra c'è una qualità in più a livello proprio di miscelazione quando viene spinta direttamente nei collettori dei tubi per poter essere poi mandata nel serbatoio ed è semplicemente l'azoto la miscela dell'azoto che pari al 75 per cento della miscela del gas che viene poi spinto fa sì di creare quella cremosità sì in più della birra che sembra quasi di bere del cioccolato freddo come stesso e ricorda tantissimo altre bevande per esempio se come l'irish coffee o come il bayliss ma sono comunque cose molto differenti questo perché difatti oltre che il tatto stesso che si ha durante l'assaggio sia anche un sentore aromatico che nella bocca sprigiona ed è tipicamente quello della guinness guinness che oltre acqua orzo luppolo manto e azoto col suo sentore di cioccolato dal 1755 ci fa amare sempre di più la birra stout l'abbiamo 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 l'abbiamo